Adesso le donne, consiglio pulite le lentine degli occhiali, i mariti mandateli a prendere il caffè, tutto vostro, top model internazionale Emil Montenegro! Ciao Emil, benvenuto tra noi, tu sei un fotomodello internazionale, lui può contare sull'affetto di 350.000 follower, su Instagram, collabori con brand di successo, ma c'è un particolare trucco segreto per così tanto successo Emil? No, un vero e proprio segreto non c'è, in inizio bisogna avere un po' di fortuna e anche molta determinazione, bisogna essere se stessi, umili ed educati con tutti, questo è molto importante. Emil, ci vuole tanta fortuna con C maiuscola per fare successo, grande fortuna con C, grande grande maiuscola, perché poi il bello che non va avanti chi è che è bravo, quello è il bello. Bene, ma è tutto lato in scuola, Emil dice ma che sta di questo? Grazie Emil, hai perfettamente ragione, un applauso a questo grande modello internazionale. E adesso, siccome siete molto belli e molto bravi tutti e due, c'è un piccolo omaggio per voi. Cruder vuole omaggiare appunto il nostro amico Emil, mentre invece Victoria Flo vuole omaggiare la nostra Laura. Vi parlo meglio di questi due sponsor, ma prima chiamiamo per Cruder Martina Allegritti, credo che ci sia, vero? Perfetto. Con Silvia Frani. Martina? Maria Pia? La Valletta? Monia, perdonami, dove sono le signore? Non ci sono, non fa niente. Grazie. Grazie. Grazie.